Io ero giovanissimo, avevo 24 anni, c'era Monsignor Migliorini e a un certo punto sentimmo i rumori degli aerei e subito dopo la detonazione è tremenda e vedemmo la polvere che veniva dall'alto. Corremmo sul piazzale, lì a piazza Cesare Battisti e vedemmo che era tutta una nuvola di nebbia, di polvere. Corremmo subito lì dove erano cadute le bombe e purtroppo una visione tremenda perché si sentivano le grida della gente che era seppellita addirittura sotto le macerie. Io ricordo la prima persona che incontrai era una donna che era ricoperta completamente, solo la testa rimaneva poche parole, appena per dire che era un sacerdote che le dava la soluzione, che le dava l'unzione dei malati e poi passare ad altre persone così per tutto il tempo. E passò fino a un certo momento sentimmo di nuovo il rumore degli aerei che ritornavano. Dico la verità, ebbi veramente paura. Era un momento in cui io stavo parlando con una persona che era stata bloccata con il trave su un piede e quindi non si poteva muovere e d'altra parte io non potevo certamente abbandonarlo in quel momento. Confesso che ho avuto paura in quel momento. Realmente Monsignor Migliorini insieme con Don Antonio che era il suo segretario, appena sentirono il bombardamento, corsero subito al borgo e accogliendo, cercando di consolare, di aiutare quanto a loro era possibile e soprattutto anche amministrare la soluzione sacramentale ai moribondi. e Don Giovanni Olivieri anche lui si dava da fare per aiutare. Una delle impressioni più forti che ebbi è nel vedere una donna che era completamente priva della testa, ma soltanto il corpo. Con Don Giovanni cercammo di aiutarla, poi bisogna aver pazienza perché anche la mia memoria, anche la mia voce trema un po' sia per i ricordi sia per l'età che ho. Quando arrivò il momento della liberazione, come si realizzò l'incontro? Sul ponte, c'era la passarella sul ponte che... Certo, il ponte 28 ottobre era stato minato dai tedeschi e quindi esistono... Era isolato completamente i riedi e il Vescovo veramente si è comportato anche in un modo severo contro quello che era il prefetto della città di Marciano. C'è stata da parte del Vescovo una partecipazione completa, affettuosa, coraggiosa. Lui che era stato anche il cappellano militare, ricordava la sua fortezza d'animo nel venire incontro alle persone che soffrivano. Certo, conosceva anche in prima persona i drammi della guerra, quindi... Anche Don Giovanni Olivieri, che allora era seminarista, si dava da fare con tutte le sue forze, anche, anzi, fu in quell'occasione che per trasportare un cadavere fu preso da polmonite, si ammalò. A Fonte Cottorella ricordo che anche lì era stato colpito dal bombardamento e c'era un cadavere che poi è rimasto seppellito là sopra, sconosciuto. Certo. Un'altra circostanza che ricordo è l'incontro di Monsignor Migliorini, prima del bombardamento, mentre si ritiravano i soldati dal nord. Un incontro nella cattedrale, se ben ricordo, parlava con loro e in attesa che fossero arrivati i famosi liberatori. Certo, gli alleati. Gli alleati, i liberatori però che avevano anche bombardato. Eh certo. Bombardato persino Monte Cassino. D'altra parte anche lì, dove è adesso l'edificio trascolastico di Viale Mareini, lì venivano accolti anche persone che venivano dall'Abruzzo. E certo, tutti gli sfollati, tutti coloro che avevano dovuto abbandonare le loro case, la loro terra. Venivano aiutati sia col cibo sia con i bestiali. L'assistenza materiale e l'assistenza anche spirituale, il conforto, l'incoraggiamento a superare il periodo difficile che poi fortunatamente sarebbe passato. Certo, una vicinanza attiva, dei germi di speranza che nel dopoguerra hanno veramente germogliato. Si viveva veramente, si vivevano quei periodi in comunione con tutte le persone, senza alcuna distinzione, di grandi e di piccoli, perché si soffriva tutti e ci si aiutavano l'altro e ci si incoraggiava aspettando tempi migliori, che fortunatamente poi sono venuti. Sono venuti. Tante altre cose mi sfuggono dalla memoria, però sono stati periodi preziosi anche per me perché sono serviti per prepararmi alla vita, per poter essere poveramente utile in qualsiasi circostanza. Grazie a lei. Grazie, grazie. Grazie.